Dopo la sconfitta a Schock contro il Siena, l'Inter cerca riscatto al Betegodi contro il Chievo. L'esperimento nella difesa a Trevinette è stato dopo tre minuti da Pellise che grazie a Andanovic. L'Inter gioca al piccolo trotto, rischia, perde Snedo dopo 25 minuti ma al 43esimo passa sull'iniziativa di Nagatomo. Alvaro Pereira gira alle spalle di tutti i difensori, forse in posizione irregolare e deposita alle spalle di Sorrentino. Primo gol della sua carriera italiana, il Chievo ci prova con i calci piazzati nella ripresa, Andanovic salva così al 66esimo. Ed è una parata fondamentale perché otto minuti più tardi sull'assist di Gargano arriva il gol del 2-0 con Antonio Cassano nel giro della sua 300esima in Serie A. Fa 90 nel nostro campionato, quinto gol in carriera al Chievo, il terzo in questo campionato per il Barese. Trema il pallo di Andanovic all'82esimo sulla punizione di Crusado e l'ultima occasione del Chievo. L'Inter che fatica a San Siro, viaggia col vento in poppa e trasferta 5 su 5, passo da Scudetto.